ai microfoni di grosseto sport e grosseto sport che che sei nuovo qui dei di grosseto è l'unica emittente sportiva nel capoluogo e della maremma intanto bruno poi ho presenti tutti i presenti personalmente ho letto un po il tuo curriculum che non è niente male però ecco la prima partita la prima intervista qui a grosseto presentati un po ai tuoi tifosi e da dove vieni c'è un 2004 vero vengo dalla ferentina ho fatto otto anni lì poi sono già come noi e si sente che vivo in italia da 15 anni il suo italiano è un piacere sentiti parlare quasi sembra che sogno o sono destra da sentirti parlare toscano così sogno sono sveglio a dicevo l'anno scorso sono stato a liana in serie di ho fatto una discreta stagione poi quest'anno ho fatto provato un salto di qualità cioè di categoria dove sono stato sei mesi a cerignola però fatto una presenza sola e non guardare i tuoi amici che stanno ridendo ecco bravo perché vedi così vanno via vedi ora che sei un difensore centrale dici ma preferisci più giocare centrale o a destra o qualche difesa preferisci a 4 a 3 io ho sempre c'è così grossetani che tanto domani poi se missi ti schiererà o ti mettere comunque sei della partita cosa voglio dire ai grossetani per il futuro che sono veramente vogliano cercare di vincere tornare alla vittoria e fare un finale di campionato diverso dalla prima parte di gabbia stagione anzitutto forza grosseto e spero di fare una buona stagione di aiutare il grosseto a vincere questo campionato perché è l'obiettivo che c'è che si è imposto la società bruno grazie mille in questa prima tua intervista in un imbucco al lupo per il futuro perché veramente voglio vederti a parte no in campo no perché lo decide il miste però voglio che tu lasci un impronta in questo grosseto va bene ok ciao